Via libera ad 1.555.000 euro di fondi per sostenere la crescita formativa e professionale di 692 giovani siciliani per la partecipazione a master di primo e secondo livello, sia in Italia che all'estero, corsi di lingua, patenti, licenze e brevetti con l'obiettivo di sostenerne le opportunità di inserimento lavorativo in un mercato del lavoro sempre più competitivo. Sono state infatti pubblicate le graduatorie provvisorie della seconda finestra dell'avviso 27 sbarra 2019 per il progetto Giovani 4.0 promosso dall'assessorato regionale all'istruzione e formazione professionale nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo Sicilia. In dettaglio sono 215 le domande ammesse per un totale di oltre 952.000 euro per la sezione A con percorsi formativi che dovranno essere svolti nei sei ambiti tematici agroalimentare, turismo e beni culturali, energia, smart cities e communities, economia del mare e scienza della vita. Sono invece 386 le domande ammesse per un totale di circa 400.000 euro per la sezione B, ovvero il finanziamento di voucher utili al conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo e cinese. Sono 91 infine le domande ammesse per un totale di oltre 203.000 euro per la sezione C, ovvero voucher per la copertura dei costi di corsi finalizzati al conseguimento di licenze, patenti e brevetti.